giovedì della terza settimana dopo pasqua le persecuzioni contro la chiesa geloso di questa patria che deve condurci in quell'altra dalla quale egli è stato escluso satana non ha tralasciato nulla nel corso dei secoli per abbatterla innanzitutto ha combattuto la libertà della sacra parola quella parola che fa nascere i figli della chiesa vi proibiamo dicevano i suoi primi accoliti di parlare ancora di questo gesù lo stratagemma è abile e se non ha servito se la predicazione della parola è continuata malgrado tutto il nemico non ha cessato di servirsene fino ai nostri giorni quanto meglio ha potuto le potenze maligne hanno cominciato assai presto a perseguitare la chiesa la violenza ha cercato di abbatterla spesso i cristiani sono stati costretti a rifugiarsi negli antri e nelle foreste a scegliere le ore della notte per celebrare i misteri della luce per cantare lo splendore del divino sole della giustizia quante volte i nostri più cari templi monumenti della pietà e resi sacri dai più cari ricordi hanno coperto la terra con le loro rovine satana avrebbe voluto cancellare perfino le tracce del suo vincitore a quale tirannica gelosia non hanno dato luogo le leggi che la chiesa ha emanato per i suoi fedeli e le relazioni dei suoi pastori tra di loro e con loro capo alla società cristiana se perfino rifiutato il diritto di governarsi da sola uomini spregevoli hanno aiutato i sicari di cesare a malmenare la sposa di cristo i suoi beni temporali hanno fatto gola alla cupidigia delle potenze della terra essi garantivano la sua indipendenza e bisognava quindi rubargli ali per rendere difficile la sua vita le nostre società pagano caro ogni giorno questo attentato ciò nonostante non sono poche a questo riguardo le idee errate l'idea che la chiesa deve essere soltanto spirituale non visibile a meno che non voglia far parte dello stato idea impia ed assurda condivisa da non pochi ma noi non vogliamo dimenticare i martiri che hanno versato il sangue per dare e mantenere alla chiesa di gesù cristo quella qualità di società pubblica esteriore indipendente da ogni potere umano in una parola completa in se stessa chissà che non siamo noi gli ultimi eredi della promessa ragione di più per proclamare fino alla fine i diritti di colei che cristo ha scelto come sua sposa a cui ha affidato il dominio di questo mondo che è stato conservato in grazia sua e che crollerebbe il giorno stesso in cui essa ne venisse bandita sia across Grazie a tutti.